Oggi il risotto più buono del mondo! Versiamo l'olio e il burro in una padella capiente insieme alla cipolla tagliata finemente. Uniamo il salmone affumicato e poi il riso, tostiamo il tutto e aggiungiamo il brodo al bisogno. Terminata la cottura uniamo la rubiola e il prezzemolo tritato. Dopo averlo mantecato bene serviamo a tavola e come tocco finale aggiungiamo la granella di pistacchi. E ora si mangia!